ragazzi hanno fatto tante polemiche le parole dette da Ciro Santoriello nel video che abbiamo visto un po tutti ieri le parole ormai le sappiamo tutti come tifoso amo il Napoli come PM sono anti Juventino sono parole che ai tifosi hanno dato parecchio fastidio sono parole che a mio parere anche a parere vostro non dovevano essere detto uno le può pensare assolutamente perché dentro la testa di ognuno di noi nessuno può andare a vedere nessuno può andare a sentire però non le puoi dire già l'odio non si mette mai in campo però come magistrato soprattutto visto che ti stai occupando proprio di quella situazione era meglio non dirlo ora gente dice si ma l'ha detto tre anni fa questo per me non cambia niente è intervenuto anche il presidente dell'associazione magistrati santa lucia e proprio a parlando di questo qui ha espresso il suo pensiero prima di leggervi naturalmente il suo pensiero il pensiero del ricordiamo il presidente dell'associazione dei magistrati che ci ha tenuto giustamente a intervenire a dire la sua dopo il can can che ha smosso questo video giustamente tanti di noi lo aspettavamo io personalmente aspettavo giustamente che qualcuno prendesse posizione e dicesse qualcosa perché non poteva non poteva passare tutto sott'occhio non poteva non nascondere tutto è una cosa che ha fatto talmente rumore che per forza qualcuno nei piani alti doveva intervenire per dire qualcosa ed è intervenuto il presidente santa lucia santa lucia che ha detto delle parole abbastanza abbastanza significative prima di leggervi le parole che ha detto santa lucia in un'intervista io vorrei ringraziarvi ancora uno per uno tutti coloro che sono iscritti fino adesso 500 ragazzi nell'arco di due giorni in pressione il mio canale non faceva neanche mille iscritti adesso ha detto li abbiamo superati hanno fatto in tempo a fare il video di ringraziamento dei mille iscritti perché tra un po arriviamo a duemila quindi faremo molto probabilmente quello dei duemila se lo faremo detto questo vi ringrazio ancora uno a uno io cerco di rispondervi avete scritto una marea di messaggi più di 600 messaggi nell'arco di due giorni è difficile rispondere a tutti quanti però io cercherò di farlo naturalmente non sono tutti messaggi di complimenti c'è anche qualcuno che sta rosicando ma la cosa che mi rende fiero di questi 500 passi iscritti che sono arrivati in due giorni che nessuno può venirmi a dire che i miei sono anti juventini perché in questo canale non si parla in modo che gli anti juventini possano arrivare si danno le notizie se ne parla e si discute e soprattutto si cerca di utilizzare la logica perché non siamo avvocati non siamo giudici però abbiamo un cervello per ragionare soprattutto per cercare le informazioni e capire se queste informazioni sono vere hanno una logicità o sono messe lì per creare fuffa fumo negli occhi detto questo ragazzi ha parlato il magistrato come vi dicevo prima mi mi duele un po' perché io mi aspettavo sinceramente un altro tipo di intervento da parte del del presidente del dell'associazione dei magistrati io mi aspettavo diciamo prima vado a leggere quello che lui ha scritto e poi anzi quello che lui ha detto e poi dopo lo commenteremo ragazzi il presidente santa lucia dice riguardo le parole dette nel video parole inappropriate ma non può essere ricusato quindi sì sono parole che non non doveva dire però nessuno lo può togliere da dove è quindi togliamoci dalla testa quello che ho detto nel video precedente che sia così facile toglierle di mezzo perché se già il presidente dell'associazione dei magistrati si è messo a suo favore allora sarà difficile perché naturalmente tutto deve partire da lì a meno che qualche presenza politica non si mette in mezzo e faccia ragionare un po' questi magistrati che ormai di legge stanno facendo veramente poco ma non è finita qua non sono solo queste le parole che ha detto lui qui sulla sulla frase che ha detto santoriello che odia la juve quindi proprio sulla parola odio qui ho fatto il video oggi pomeriggio tra l'altro siete stati tantissimi a guardarlo e tantissimi a commentarlo se non l'avete ancora visto andatevelo a vedere perché merita davvero lui ci spiega a noi che cos'è l'odio giustamente no e ci dice è una parola che non vorrei mai leggere né sentire ma fa parte del gergo calcistico quindi è una parola grave ma nel calcio nel calcio fa parte del gergo quando mai voi non sentite dire ti odio ogni partita si dice ti odio chi è tifoso dice lui sa che non si tratta di odio ma dell'affermazione di una forte rivalità quindi per lui non è non sono gravi queste parole sono parole dette così soprattutto si deve tenere conto del contesto in cui sono state dette le parole queste sono le motivazioni che diciamo raffreddano un pochettino gli animi a noi giuventini no però per quanto riguarda le esternazioni fatte da nostro caro amico Ciro Santoriello ora io vorrei dire al nostro presidente dell'associazione dei magistrati quindi magistratissimo quindi presidentissimo santa lucia io mi ricordo qualche anno fa quando fu chiellini a dire odio sportivamente l'inter successe un casino sui social addirittura potete andarlo a vedere visto che mi dite tutte le volte ma questa informazione dove la prendi ma questa informazione dove la prendi andate a vedere il report fece addirittura un servizio con un milione e cinquecentomila visualizzazioni ad oggi dove raccontava dell'odio di chiellini calcissima comunque è una parola che non si deve dire quando chiellini ha chiarito non dopo l'intervista ma durante l'intervista che lui intendeva dire e infatti l'ha detto sul campo io odio l'inter quando entro in campo per me scatta un sentimento particolare che appena finisce la partita scompare e poi si va a ridere e scherzare tutti assieme per queste parole qua chiellini è stato crocifisso addirittura si chiedeva la la squalifica per chiellini perché lui ha detto odiavo sportivamente l'inter invece in questo caso dove è un magistrato che sta indagando contro di te se dice che ti odia calcisticamente che ha un odio allora è normale beh è un suo sentimento perché tutti possono tifare tutti debbono tifare secondo me non è proprio così perché sì che è vero che tutti tifano tutti anche gli arbitri tifano ma se un arbitro tifa una squadra non deve andarla ad arbitrare e soprattutto se si viene a sapere che un arbitro è tifoso di una squadra non può più arbitrare è normale deve essere super partes perché se io arbitro sono tifoso napoletano faccio un esempio e gioca juventus lecce per esempio e la juventus è a tre punti dal napoli e se io sono tifoso del napoli secondo te da arbitro farò in modo che la juventus vinca o farò in modo che la juventus perda oppure al contrario se io sono tifoso juventino e a tre punti c'è il napoli e vado a arbitrare il napoli secondo voi la faccio vincere o cerco di farla perdere quindi per logica uno che è tifoso nell'ambito calcistico non può essere un arbitro perché non sarà mai super partes quindi la risposta è no non puoi essere tifoso se svolgi determinati ruoli se sei un tifoso te lo tieni per te devi essere bravo come i commentatori di una volta che hanno commentato per 20 anni e nessuno sapeva perché squadra tifava nessuno lo sapeva perché era lui faceva il suo lavoro quello che io tifo è fuori dal mio lavoro perché se il mio tifo poi va a coinvolgere il mio pensiero sull'ambito sul campo sul campo di lavoro e allora io non posso più svolgere quel lavoro questo è il mio pensiero quindi ragazzi le parole dette dal magistrato santa lucia anzi dal presidentissimo magistrato santa lucia sono parole assolutamente che poteva evitarsi perché non stanno né in cielo né in terra non si può giustificare un video come quello che abbiamo visto assolutamente il nostro amico ciro non può essere giustificato anzi deve essere sollevato dalle sue mansioni deve essere indagato perché è assolutamente intanto potrebbe potrebbero esserci gli estremi per abuso d'ufficio perché questo qui prende tutti i documenti li dai giornali cioè ha fatto proprio delle porcate assurde e il presidente dei magistrati lo lo giustifica pure quindi ragazzi questa è la situazione della juventus in questo momento purtroppo non possiamo farci niente sapevamo di essere contro tutto e tutti però non pensavo che il presidente dei magistrati anziché starsene zitto intervenisse con una frase così come dire ragazzi ma non è niente andiamo avanti che non è successo niente io vorrei vedere se queste stesse parole fossero dette nei confronti del napoli del milano dell'inter se i media sarebbero stati a sentire senza battere battere chiolo detto questo ragazzi io mi invito a iscrivervi al canale se volete attivare la campanellina e mettere un bel like al video ma soprattutto a condividere questo video con tutti in maniera da far girare un pochettino le notizie perché ormai c'è sempre solo una campana che suona per questo ciao io